Buongiorno a tutti, oggi parliamo dell'Italia, questa è l'Italia, l'Italia ha la forma di uno stivale con la punta e il tacco, qui si trova GAP. Giulia, qual è la capitale dell'Italia? La capitale è Roma, Roma si trova qui, al centro d'Italia. A Roma ci sono tantissimi monumenti, per esempio il Colosseo e il Foro Romano. Maria Chiara, qual è la tua città preferita? La mia città preferita è Venezia, Venezia si trova qui, Venezia è una laguna ed è circondata dal mare. Giulia, qual è la tua città preferita? La mia città preferita è Pisa. Pisa si trova qui, vicino a Firenze. A Pisa c'è la famosa torre in Piazza dei Miracoli. Giulia, ma che cos'è questo? Questo è il Vesuvio, è un vulcano vicino a Napoli. È il vulcano che ha distrutto Pompei. Bene, siete pronti per partire per un viaggio in Italia? Pronti? Via!